E salve a tutti ragazzi e ben tornati sul canale ed eccoci qui su Ghostware Tokyo e sulle sue quest secondare Oggi andremo ad affrontare la quest secondaria K Quindi aggiungiamo lo spirito e parliamoli Ogni tanto ci trovavano qualche morto qui e tutti davano la colpa a un K Ok E che cos'è un K? Non so se ci trovavano ogni tanto ci trovavano e tutti davano Ma non... Non mi ha dato l'appart... oh sì Aspetta 44 metri K, ok, sì, mi ha attivato la missione Ragazzo immobilizzato Ho chiamato un K Ho solo messo un centriolo su quella piattaforma Quando è arrivato mi ha rubato qualcosa E ora non riesco a poco Avrà preso il tuo shirikodama E' meglio stare alla larga dai K Tranquillo, te lo riporterò Hai altri cetrioli? Certo Vieni Bene Ci servono per attirarlo Ok, partita la missione secondaria Posiziona il cetriolo Ah, lo devo mettere là sopra Maggio che il K sia uno yokai Nasconditi subito dietro la stacqua Il K se ne andrà, se ne andrà, se ne andrà degli adulti Vediamo questo yokai Un K, cosa facciamo adesso? Stai nascosto E aspetta che inizi a mangiare Beh, non sembra minaccioso Ci avvicineremo quando sarà distratto Non aver fretta Usa la visione spettrale per seguirne il movimento Ah, ok Occhio, occhio Ok Si sta facendo il giro per controllare Se è tutto tranquillo Ah, questo Sta mangiando, penso Posso avvicinarmi? Devo aspettare che K.K. dica qualcosa Si, avvicinati piano A posto Parla con il bambino Ecco qui il tuo Shiri Kodama Ora riesci a muoverti, no? Stai alla larga dagli yokai Va bene? Certo Grazie signore Sei un tenerone Non so di cosa tu stia parlando Ok, pensavo c'era altro da fare A posto ragazzi Questa secondaria è veramente facile, facile, facile Spero che vi sia stata utile Voi come sempre Spolliciate Mette like Commentate Fatemi sapere cosa ne pensate E noi ci vediamo sempre qui con un nuovo video Un saluto Da Mizzara Garet Ciao Ciao